buonasera amici di il mondo in parole regola d'arte eccoci qui per una nuova puntata la dodicesima se non vado errato sono roberto di pietro ancora una volta solo solo perché massimiliano è prigioniero della 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 tecnologia e ci segue e ci segue in diretta come d'altronde anche tanti tanti amici la scorsa puntata è stata ascoltata da più di 350 persone che ringraziamo ricordiamo che potete seguirci sia in diretta e streaming su staff radio oppure con i podcast sia sul sito di staff radio che sulla nostra pagina facebook che è il mondo in parole a regola d'arte sulla quale ultimamente sto iniziando a postare come avevo promesso dei video di approfondimento sugli argomenti che stiamo trattando questa sera parleremo continueremo a parlare del del nostro filo conduttore che insomma ci ha tenuto compagnia per tutte queste puntate che è l'approccio del l'approccio al reale cioè cosa è reale e cosa non lo è cosa determina una verità presunta o dichiarata tale e cosa invece no questa sera parleremo dei mezzi di comunicazione e quindi essenzialmente di ciò che classificheremo con sotto diciamo il nome di di spettacolo nei quali ahimè nel quale scusate nella quale categoria ahimè rientra anche l'informazione e attraverso l'altro libro di marco caponera che avevamo letto la scorsa settimana con l'inutile questa sera leggeremo il suo primo libro in realtà il suo secondo libro ma il suo primo libro diciamo su su questo filone che si intitola la sparizione del reale lettura critica del linguaggio dei mass media quindi è un è un libro che analizza il il linguaggio gli effetti del linguaggio le tecniche del linguaggio e quindi di trasmissione del linguaggio ma non solo attraverso infatti uno studio più completo elaborato della semiosi ovvero della relazione che intercorre tra la forma dell'espressione e la forma del contenuto e analizzando quindi sia la forma di espressione che del contenuto all'interno del contesto video e quindi del dell'immagine scopriremo un meccanismo una parola che ormai dovrebbe esserci familiare poiché nell'età della tecnica è facile ed è normale che se che tutto abbia un suo meccanismo che è più o meno più o meno svelato o più o meno celato in questo caso è celato è celato da cosa è celato in realtà da dalla mancanza dell'applicazione del nostro senso critico di di spettatori in che senso chiederete in questo senso che noi ormai riteniamo reale ciò che vediamo e non pensiamo minimamente che ciò che vediamo intanto non solo può essere per i più maliziosi tra i quali per esempio io figuro l'elaborazione visiva di un immagine di un servizio di un reportage può essere costruita 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 attraverso il montaggio costruita attraverso la scelta di fare dalla scelta anche del della regia di come inquadrare alcuni personaggi di di quale lui in quale luce in quale prospettiva e soprattutto unita quale commento è rinomato non dico niente di nuovo che la televisione ha una potenza ha una potenza clamorosa nella nella diciamo nel fare presa sulle nostre menti quelle di tutti per primo la mia perché perché unisce l'immediatezza la velocità la rapidità la anche la pienezza di informazione che dà un'immagine perché la vista dei sensi che abbiamo è sicuramente il più immediato e il più completo se vogliamo no è quello che ci dà anche un un rapporto molto più diretto con con il cervello basti pensare che qualunque altro senso a parte l'udito che però vi motivi appunto non è in relazione con il visibile qualunque altro senso unisce il senso stesso e la vista cioè il tatto è comunque unito alla vista il gusto è comunque unito alla vista e il sentire non è sempre unito alla vista può essere slegato e l'olfatto in effetti anche ma spesso l'olfatto è anche collegato alla vista e quindi e dicevamo per analisi per vedere l'analisi lucida semplice come abbiamo visto l'altra volta profonda ma allo stesso tempo comprensibile a tutti di marco caponiera prima ed è per me una gioia un piacere poterlo fare anche se tra tra amici quale siamo sarebbe molto bello se questo libro fosse più pubblicizzato più letto più divulgato più proposto anche negli studi soprattutto universitari che è la società dello spettacolo di guide bohr guide bohr è un un filosofo diciamo così un dottore del null dottore in nulla si definì lui un filosofo di un movimento movimento potremmo dire di idee di idee che insomma rientrano sono molto vicine a idee marxiste ma anche che hanno diciamo delle forti sfumature anarchiche quindi in realtà non sono e vi ne renderete conto dalla lettura che andrò a fare non sono legati a sistemi politici di pensieri ma abbiamo visto l'abbiamo visto in passato citando orwell citando sartre citando altri autori abbiamo visto che il pensiero ha in sé una forma politica non di appartenenza come dire cantonale quindi non è liberale o progressista non è conservativo né reazionario non è di destra né di sinistra il pensiero è politico perché la politica è la vita viene la parola politica viene dal greco polis cioè appunto città la politica è tutto ciò che riguarda la vita di un uomo come veste come mangia quello che legge quello che non legge quello che dice quello che non dice come si comporta e le scelte che fa tutto il tipo la marca d'acqua che beve o i vestiti e la marca di vestiti che indossa tutto è politica tutto fa pensiero e quindi in questo senso quando almeno se di solito è una specifica che faccio perché ci tengo molto ma se a volte dovessi pronunciare la parola politico ricordate e abbiate la pazienza di ricordare che la intendo sempre in questa sua accezione ampia e mai di espressamente partitistica o comunque di cantone leggeremo questo appunto questo una parte di questo libro l'inizio tanto per vedere che cosa si intende ovviamente molto su maniera molto superficiale con società dello spettacolo ed è un titolo parte straordinario bellissimo ma è un titolo ahimè intuitivo cioè la società dello spettacolo è una società che non solo e non soltanto si limita a produrre spettacolo e a valutare tutti in base allo spettacolo cioè in base veramente a un rapporto di di gradimento che il pubblico ha di noi del nostro lavoro della nostra prestazione del nostro modo di pensare del nostro modo di vestire ancora una volta vale tutto quanto detto sopra ma è una società che non ha più nessun tipo di valore umano se non quello dell'esteriorizzazione quello del commercio quello dell'essere perennemente in vendita tante volte abbiamo sentito la frase che sono un fautore del box populi box dei e abbiamo sentito la frase che tutto ha a un prezzo e oggi giorno ce ne rendiamo conto che è un concetto purtroppo veramente reale vivo incisivo e anche invadente dicevo la scorsa puntata che noi abbiamo smesso di pensare al all'inutile come valore della vita il fare un gesto di carineria essere gentili essere anche cavalieri a lasciare per esempio il portone aperto alla persona che ci viene dietro oppure aprire la porta e lasciare entrare prima la persona che deve entrare poi uscire noi non mi spingo alla cavalleria che pure non guasta dico quella tra uomo e donna ma comunque c'è un un vivere un vivere comune che sia un rispettarsi reciprocamente che non deve essere per forza come dicevo l'altra volta un un sentimento diciamo religioso di comunanza settaria di qualche di qualche di qualsiasi forma essa sia ma deve essere una una un'attitudine una una maniera di di vivere la vita in forma profondamente diversa quindi non certamente pensare che il condividere la negatività con gli altri possa in qualche modo portare beneficio a noi stessi poiché il mal il mal comune è un mezzo che audio ma invece cercare di portare il più possibile positività negli altri e a se stessi cioè l'approccio positivo che non significa remissivo e non significa neanche diciamo a Roma diremmo da fessi non significa appunto accettare i soprusi accettare la maleducazione accettare la cosa palesemente sbagliata o la prevaricazione no significa però affrontare qualunque cosa essa sia almeno inizialmente con con garbo con calma con calma scusate e con costruttività allora iniziamo e leggeremo queste 15 frasi questi 15 aforismi di chi the board e il libro che leggerò io era è nell'edizione della baldini e castoldi adesso so che è stato ripubblicato in un'edizione anche un pochino più economica e quindi tanto meglio è però un libro che difficilmente trovate in tutte le librerie però per esempio nelle grandi nelle grandi librerie nelle grandi catene di librerie ci sono faccio un inciso per chi è come me è amante dei dei libri e per chi come me e compra compulsivamente libri anche sapendo avendo coscienza del fatto che non ha il tempo per leggerli consiglio per chi è di roma ad esempio di farsi un giro quando a tempo a via nazionale presso la libreria ibs dove non solo hanno veramente una quantità di titoli a disposizione enorme ma esiste anche tutto un piano inferiore che per una parte vende libri nuovi usati a metà prezzo e molti di questi sono libri di storia sono libri di linguistica di critica letteraria sono libri di filosofia di teologia di religione sono libri di narrativa contemporanea italiana e estera quindi veramente se vi trovate nei pressi di termini insomma piazza dei 500 quelle parti lì fate sicuramente un salto lì perché potete trovare veramente dei libri eccellenti anche a metà prezzo inizio a leggere questo libro straordinario che non è sicuramente un libro per per persone ottimiste però l'approccio come dicevo prima deve essere positivo ecco non ottimista perché non è quello che intendo ma deve essere positivo propositivo e deve essere sempre quello del mettersi in gioco del non dare nulla per scontato e di accogliere nei limiti del possibile sforzarsi di accogliere le istanze le idee a volte anche le pretese di chi ci sta davanti quindi leggerò i primi 15 aporismi se vogliamo primi 15 punti con con grosso rammarico perché questo è un libro veramente che vale la pena leggere tutto dall'inizio alla fine è uno di quei libri che fanno fanno pensiero cioè veramente uno di quei libri che aiutano le persone a decifrare la realtà che hanno intorno a loro ed è una cosa importante questo perché spesse volte i libri puntano a come dire portare il lettore dalla propria parte no con il famoso famoso e antico stratagemma della della tesi e della e della dimostrazione finale ma per quanto apprezzabili ovviamente siano anche questi di questa tipologia di libri ciò che è importante è invece leggere libri che siano formativi per una certa maniera di pensare che che non è mai non sempre andare in una direzione ben precisa ma spesso per esempio l'etimologia in questo ci viene sempre incontro no perché ci dice qualcosa di una parola che è sempre di più rispetto al suo rapporto tra significato e significante o anzi meglio tra significante e significato la riflessione dal latino reflectere significa ritornare reflectere tornare indietro significa appunto ritornare al punto di partenza quindi la riflessione è un girare un rigirare sullo stesso punto un'analisi a 360 gradi di una di un'idea di una di una qualunque cosa che non necessariamente deve portare a ma è un esercizio come dire necessario e formativo in sé inizio dal dal punto 1 tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come un'immensa accumulazione di spettacoli tutto ciò che era direttamente vissuto sia si è allontanato in una rappresentazione ecco già questo da il senso la misura del 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 discorso che debora andrà ad affrontare la società odierna vive oggi un paradosso che è quello estremo cioè qualora io fossi un 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 fornaio io sono portato a non avere coscienza della mia realtà da fornaio cioè di persona che fisicamente fa il pane ma magari sono portato a vedermi come un imprenditore come un negoziante come un imprenditore come un venditore come un affarista come un appartenente al popolo delle partite iva eccetera 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 e se poi mi capita di vedere in televisione uno che fa il pane riconosco lui invece come la figura del fornaio per eccellenza cioè a vedi lui fa il pane ma nella vita di tutti i giorni anche io faccio il pane ma ne ho perso la coscienza perché perché quello che importa non è ciò che avviene ciò che appare ciò che è reale in senso stretto ma ciò che ciò che appare nella realtà cioè ciò che è nella realtà scusate ma ciò che appare cioè ciò che mi viene mostrato ciò che viene fuori da me non ciò che è dentro me quello è il reale quello che è in me chi sono io non è più reale perché io sono portato ad aderire a un modello che è sempre più esteriorizzato sempre più medianizzato sempre più stereotipato sempre più io uso questa parola impropria ma che dà il senso dell'idea omogenizzato proprio a bolo noi i nostri pensieri i nostri cervelli vengono scientificamente con più spinte e con più fronti invitati a pensare tutti alla stessa maniera e vengono scientificamente indirizzati a questo dai messaggi che possono essere subliminali o meno devo dire che il livello della della nostra televisione è un livello talmente basso che non ha ovviamente bisogno di nessun tipo di subliminalità purtroppo e quindi deborre dice che fondamentalmente la nostra società è una società in quanto si riconosce nello spettacolo al di là dello spettacolo non esiste nulla il punto 2 le immagini che si sono staccate da ciascun aspetto della vita si fondono in un corso comune in cui l'unità di questa vita non può più essere ristabilita la realtà considerata parzialmente si afferma nella sua propria unità generale in quanto pseudo mondo a parte oggetto della sola contemplazione la specializzazione delle immagini del mondo si ritrova compiuta nel mondo autonomizzato dell'immagine in cui il menzognero ha mentito a se stesso lo spettacolo in generale come inversione concreta della vita è il movimento autonomo del non vivente ecco questa frase che è un pochino difficile ma i libri sono sono stampati sulla carta proprio perché ci danno la possibilità di tornare indietro quando non capiamo una cosa e di rileggerla e analizzarla profondamente anche io mi permetto di dare ogni tanto dei consigli anche con l'aiuto di vocabolari dizionari quello che volete perché è importante non sottovalutare mai l'importanza di una parola in un contesto cosiddetto semantico cioè che valore assume in una frase se noi non capiamo una parola probabilmente non stiamo capendo una frase e e a maggior ragione c'è il pericolo che non si capisca l'intero concetto quindi quando ciò avviene magari sottolineatela appuntatevela ci tornerete però non la lasciate andare perché anche l'occasione per imparare una una parola nuova quindi appunto qui cosa dice debor dice lo spettacolo in generale come inversione concreta della vita cioè lo spettacolo è la negazione della vita se noi adesso faccio l'esempio finisco leggo la frase per intero così lo spettacolo in generale come inversione concreta della vita è il movimento autonomo del non vivente è quello che dicevo prima cioè del fornaio che fa il pane ma non vedendosi fare il pane non essendo inquadrato non essendo proiettato su nessuno schermo che oggi per noi è il reale sembra sembra vivere la vita di un altro che non è lui quindi in realtà è come se fosse un automa è come se fosse uno zombie è come se fosse svuotato e il contenuto che è stato svuotato da questo fornaio viene invece in introiettato e riproiettato attraverso gli organi che si occupano di fare spettacolo quindi radio tv giornali eccetera eccetera punto 3 lo spettacolo si presenta nello stesso tempo come la società stessa come una parte della società e come strumento di unificazione ecco questo è un concetto importante perché perché se la società coincide come abbiamo detto all'inizio con lo spettacolo ma gli strumenti di analisi della società sono strumenti che afferiscono prettamente alla all'area ancora una volta dello spettacolo quello che quello che può avvenire fuori non è nient'altro che una descrizione di parte di un tutto che è comunque spettacolo faccio un esempio e vado a spiegarmi se noi vediamo un servizio giornalistico su una qualunque cosa noi lo non lo contestualizziamo a quello che il servizio fa vedere e a quello che è successo realmente ma lo contestualizziamo alla situazione in generale della della società quindi l'episodio in sé è un episodio spettacolare che non fa altro che rimandare alla spettacolarizzazione che è presente nella società per cui per questo che cosa succede che spesso si dice che per esempio avrete sentito spesse volte dire che i cartoni animati violenti inducono i bambini alla violenza oppure che le prostitute che si vedono ai bordi della strada sono una vergogna perché poi i bambini fanno le domande eccetera eccetera però nessuno mai nessuno mai penso che abbia detto si sia schierato per esempio contro le pubblicità che mostrano donne nude a ogni ogni mezz'ora praticamente alle scene di sesso nei film alle scene di inseguimento di macchine alle scene di sparatorie di stragi continue che ci sono nei film nei telefilm eccetera eccetera perché perché quello viene considerato viene considerato spettacolo e però a parte la l'inutile avvertimento di guardare film la televisione con con i bambini perché uno non può stare concentrato concentrato sempre davanti al televisore con un bambino e comunque vi invito a riflettere al sottile messaggio che per guardare la televisione un bambino deve essere accompagnato da un adulto quindi ancora una volta la società dello spettacolo si auto spettacolarizza e chiede famelicamente sempre più pubblico cioè il bambino non è in grado di vedere la televisione quindi il messaggio che si dà è non non fate vedere la televisione ai vostri figli bensì vedetela insieme ai vostri figli che è quindi come vedete ancora una volta acqua portata al mulino dello spettacolo lo spettacolo si presenta nello stesso tempo come la società stessa come una parte della società e come strumento di unificazione in quanto parte della società esso è espressamente il settore che concreta ogni sguardo e ogni coscienza per il fatto stesso che questo settore è separato è il luogo dell'inganno dello sguardo e il centro della falsa coscienza e l'unificazione che esso compie non è altro che un linguaggio ufficiale della separazione generalizzata ecco la spettacolarizzazione della società è vero che unifica tutti noi come membri come parte della società però singolarmente cioè la società dello spettacolo si unifica è compatta nella spettacolarizzazione ma nei suoi atomi portanti che siamo noi singoli esseri umani noi invece siamo spersonalizzati e sempre più indotti all'individualismo e alla solitudine perché perché noi non possiamo interloquire con un televisore per esempio ma è il televisore che interloquisce con noi e noi non abbiamo modo a parte forse il cambiare canale ma comunque non cambierebbe il principio di fondo non abbiamo modo di interloquire di dire no non sono d'accordo di spiegare le nostre ragioni ma noi immagazziniamo passivamente tutto ciò che passa attraverso la televisione senza appunto avere la possibilità di un confronto lo spettacolo non è un insieme di immagini ma un rapporto sociale fra individui mediato dalle immagini ecco che appunto nel punto 4 debor dice che a un certo punto i tre di union di questa figura immaginaria che è la società dello spettacolo diventiamo proprio noi che siamo talmente tanto adeguati talmente tanto livellati dallo spettacolo che poi ognuno di noi in pubblico è a sua volta uno specchio che rifrange la spettacolarizzazione dell'immagine ripeto in come si veste in quello che dice nel proporre argomenti di punta di conversazione tratti da avvenimenti e programmi televisivi eccetera eccetera lo spettacolo non può essere compreso come un abuso del mondo visivo prodotto delle tecniche di diffusione massive delle immagini esso è invece una weltanschauung divenuta effettiva tradotta materialmente è una visione del mondo che si è oggettivata ecco weltanschauung è un concetto filosofico che significa l'osservazione e dell'interiorizzazione della propria visione del mondo cioè come ognuno di noi vede diciamo a un'idea del 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 mondo e quindi appunto è il messaggio diventa talmente tanto invadente talmente tanto passivizzante nei nostri confronti che noi lo abbiamo interiorizzato e quando poi la parola passa a noi che non siamo abituati al confronto al dialogo alla all'ascolto reciproco umano e non di di diciamo di di registrazioni o di o di o di immagini in quel momento a noi è come se tutto quello che abbiamo immagazzinato prendesse il posto della nostra conscienza e parlasse al posto nostro quindi l'interiorizzazione dello spettacolo è talmente tale che diventa come dire noi siamo quasi più spettacolarizzanti dello spettacolo stesso lo spettacolo compreso nella sua totalità è nello stesso tempo il risultato del progetto del modo di produzione esistente non è un supplemento del mondo reale la sua decorazione la sua decorazione sovrapposta è il cuore dell'irrealismo della società reale in tutte le sue forme particolari informazioni o propaganda pubblicità o consumo diretto di distrazione lo spettacolo costituisce il modello presente della vita socialmente dominante esso è l'affermazione onnipresente della scelta già fatta nella produzione e il suo consumo conseguente forma e contenuto dello spettacolo sono entrambe l'identica giustificazione totale delle condizioni e dei fini del sistema esistente lo spettacolo è anche la presenza permanente di questa giustificazione in quanto occupazione della parte principale del tempo vissuto al di fuori della produzione moderna ancora una volta vediamo che la società meccanica la società automatica la società multimediale della 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 dello spettacolo va di pari passo con lo spettacolo stesso cioè tutto è spettacolarizzazione e anche il lavoro non è più visto come una cosa reale bensì come una una forma di di produzione di spettacolarizzazione tant'è che i mestieri quelli reali quelli fatti diciamo con le mani e quindi quelli artigianali sono mestieri che sono andati a sparire la maggior parte di dei lavori che che oggi almeno oggi no perché oggi è una tragedia ma la maggior parte dei lavori che si sono affermati con l'affermazione del 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 benessere del e dei e dei social network computer televisioni radio eccetera eccetera sono tutti lavori appunto che non richiedono più prestazioni materiali reali di di fatica ma richiedono quasi tutti prestazioni di rappresentanza cioè io è vero sono un lavoratore anche magari autonomo ma prima di essere lavoratore autonomo prima di essere il famoso fornaio di cui sopra io sono rappresentante di me stesso sono prima l'immagine e poi il prodotto finale che è il pane tant'è non so se voi vi siete resi conto che rispetto a dieci anni fa il sapore del pane la consistenza del pane la fragranza del pane la anche la resistenza al tempo del pane è andata progressivamente sparendo perché perché non vengono più rispettate le tecniche di levitezione non vengono più utilizzati prodotti di diciamo non voglio non voglio dire di qualità perché forse magari non lo erano neanche prima ma non vengono più usati i prodotti naturali ecco quindi per se voi leggete come viene fatto un biscotto se li fate voi mettete la farina l'uovo il burro il latte quello che è se leggete come viene fatto un biscotto mediamente verrebbe da dire che c'è dentro il biscotto perché di biscotto qua non si parla e quindi tutto è spettacolarizzazione il biscotto non è tanto buono quanto però è accattivante la pubblicità il l'idea che manda il biscotto o la confezione o il colore o il battaggio pubblicitario eccetera eccetera quindi lo spettacolo è a monte della produzione dello spettacolo cioè è una scelta quella dello spettacolo preventiva esattamente come dicevamo delle scienze l'esattezza della scienza è una scelta preventiva la scienza anche se sbaglia non si rinnega non si rinnega si trova invece un'altra strada cioè se non si riesce a fondere un atomo in un modo non è che la scienza ammette la sua impasse no va avanti finché non la trova e quindi ovviamente come dire procedendo per tentativi prima poi è fatale che si giunga al risultato il punto 7 la separazione fa essa stessa parte dell'unità del mondo della prassi sociale globale che si è scissa in realtà e in immagine la pratica sociale di fronte alla quale si pone lo spettacolo autonomo è anche la totalità reale che contiene lo spettacolo ma la scissione che in questa totalità la mutila al punto da far apparire lo spettacolo come il suo scopo il linguaggio dello spettacolo è costituito da dei segni della produzione imperante che sono nello stesso tempo la finalità ultima di questa produzione appunto quello che dicevo prima la scelta la comunicazione spettacolare dello spettacolo stesso è a monte della scelta di fare una comunicazione dello spettacolo che è per lo spettacolo che è fatta a come diceva prima deborre in parte in tutta la società dello spettacolo attraverso quei mezzi di critica che sono anch'essi è forma di spettacolo non si può opporre astrattamente lo spettacolo e l'attività sociale effettiva questo sdoppiamento esso stesso sdoppiato lo spettacolo che inverte il reale è effettivamente prodotto nello stesso tempo la realtà vissuta è materialmente invasa dalla contemplazione dello spettacolo e riduce in se stessa l'ordine spettacolare portandogli una tesione positiva la realtà oggettiva è presente da entrambi i lati ogni nozione così fissata non ha per fondo che il passaggio nell'opposto la realtà sorge nello spettacolo e lo spettacolo reale questa alienazione reciproca è l'essenza e il sostegno della società esistente quindi ovviamente in questo ruolo di come dire in questo cane che si morde la coda è ovvio che all'interno di una società spettacolare spettacolarizzata e spettacolarizzante ciò che avviene per noi è reale ma in realtà è ancora una volta l'espressione di un meccanismo spettacolare e faccio un esempio stupido stupido l'esempio non in sé diciamo banale più che stupido scontato il grande fratello come reality show o i reality in generali allora il reality è palesemente una funzione ma viene chiamato reality quindi noi che siamo a casa nella nostra casa guardiamo attraverso una televisione delle persone che sono in una casa e che noi spiamo attraverso una telecamera quindi c'è una un'inversione cioè la telecamera manda a noi che stiamo a casa l'immagine di quelli che stanno a casa mentre a loro li riprende quindi la televisione fa da tramite ma se noi invece spegnessimo la televisione e semplicemente ci rendessimo conto che anche noi siamo in una casa e stiamo facendo esattamente quello che fanno loro o avremmo la possibilità di fare esattamente quello che fanno loro il reality perderebbe completamente senso dov'è che il reality non perde senso ma anzi lo acquista sono due punti fondamentali che sono i due punti per cui io metto per cui a me i reality non piacciono perché sono fuorvianti e sono illusori il primo è appunto l'idea che apparire è sinonimo di successo ed è la strada più veloce e più breve per arrivare al successo il secondo che è un pochino più immediato ma anche più complesso da analizzare negli effetti è il voyeurismo cioè la voglia che ognuno di noi ha di entrare pettegolarmente in maniera pettegola in maniera proprio becera in maniera voyeuristica appunto nella vita degli altri questo però lo dico lo sottolineo presuppone che tu non hai una tua vita perché se tu vedi due persone se tu ti esalti ed esulti per due persone che fanno sesso sotto due lenzuola vuol dire che vuol dire che tu quella cosa lì però non hai possibilità di farla perché quando la fai evidentemente non trai lo stesso piacere né hai lo stimolo a trovarti in quella situazione ma ti accontenti di vederla negli altri ed è esattamente lo stesso principio della pornografia esattamente lo stesso principio di qualunque cosa che sia sostitutiva all'originale e ancora qui straordinariamente ritorna sempre questa idea di platone tra idea ideale e idea del reale cioè tutto ciò che noi affrontiamo nella vita la possiamo vedere sempre in questa prospettiva cioè c'è una cosa che è reale e una cosa che è ideale tutti noi abbiamo una donna ideale le donne hanno un uomo ideale e poi però tutti noi abbiamo una storia con una donna che nella maggior parte dei casi è un compromesso tra la donna ideale e e una donna e quella donna così per il resto quindi per tornare al discorso di qui sopra arriviamo al paradosso che la la diciamo il mezzo di produzione dello spettacolo che nel caso dell'esempio è la televisione presenta come un prodotto suo preciso specifico particolare come un un reality fatto appunto con una regia con delle telecamere e quindi fatto per essere diffuso diventi invece non più uno show uno spettacolo un varietà un chiamatelo come vi pare a voi ma diventa un reality e quindi questo ha anche tra l'altro come dicevo prima il problema di dare un'impronta a a noi che lo vediamo da casa cioè il modello sociale di oggi è quello che vedo in televisione quindi io devo aspirare per andare in televisione o diventare famoso ad essere quella persona lì questo è profondamente sbagliato senza entrare in giudizi di merito che non mi competono ovviamente ma io il grande fratello l'ho visto il primo per curiosità non l'ho mai più visto quindi non saprei neanche fare nomi in realtà però dico l'esempio preso da lì è sbagliato e poi è chiaro che ci saranno reality show per qualunque cosa tranne come diventare un calzolaio come diventare un fornaio come diventare un ciabattino come diventare un meccanico come diventare un elettricista perché quelli sono lavori invece veri del reale che la società non reputa più spettacolari non reputa più spettacolo perché il lavoro manuale il lavoro fisico è un lavoro che non produce appunto spettacolo ma produce realtà e nella maggior parte dei casi mi unisco ma anche retoricamente ma comunque come dire mi spezzo una lancia in favore delle persone che fanno lavori manuali lavori artigianali lavori anche pesanti non considerati spesso dal resto della società solidarizzo con loro profondamente e diciamo gli giro tutta la mia stima e il mio rispetto allora il 9 nel mondo realmente rovesciato il vero è un momento del falso ecco appunto straordinariamente deborre a chiosa di quello che ho appena detto ci dice che non è possibile fare un reality show dove il sogno è diventare elettricista perché quello non è un sogno ma è la realtà è la vita vera e nella televisione la vita vera non può essere come dire a nessun livello resa tale ma è sempre spettacolarizzata e quindi irreale 10 il concetto di spettacolo unifica e spiega una grande diversità di fenomeni apparenti le loro diversità e i loro contrasti sono le apparenze di questa apparenza organizzata socialmente che deve essere essa stessa riconosciuta nella sua verità generale quindi chiaramente è la stessa cosa del principio di realtà che dicevo qualche puntata fa cioè che la doppia negazione finisce con l'essere un'affermazione cioè se tutto è spettacolo se la critica dello spettacolo avviene attraverso lo spettacolo se la società si identifica nello spettacolo e lo spettacolo riflette l'identificazione della società nello spettacolo allora tutto è lo spettacolo e tutto è spettacolo e lo spettacolo coincide con il reale considerato secondo i suoi propri termini lo spettacolo è l'affermazione dell'apparenza e l'affermazione di ogni vita umana cioè sociale come mera apparenza ecco vedete quindi voi non siete voi apparite ed è per quanto banale ed è una ed è una una domanda un dilemma che attanaglia il pensiero umano da praticamente da quando esiste l'uomo ma in particolare con la nascita dell'affermazione della psicanalisi e con per esempio from un autore che penso conosciate insomma almeno di nome un po' tutti che sviscera questo problema in un libro bellissimo che vi consiglio anche che from scrive molto bene molto comprensibile non è difficile né oscuro che è essere o avere quindi questa è una domanda per quanto scontata per quanto banale per quanto retorica anche questa però l'importante è questo essere o avere quante volte nella vostra vita vi siete trovati in una condizione di dover fare una scelta tra fare la scelta per voi opportuna quindi proprio in termini commerciali in termini in termini di immagine in termini di guadagno in termini di utile e andare anche contro quello che pensate voi stessi andare contro quelli che sono invece i vostri principi quelli che in teoria trasmettereste a vostro figlio se ci riflettete questo avviene perché appunto noi sappiamo che quanto meno fuori da casa nostra fuori dall'ambito familiare conta essere scusate conta essere come apparenza ma conta chiaramente avere e quindi apparire e non essere perché se si è oggi c'è l'idea abbastanza generalizzata che si è perdenti cioè chi ha chi possiede è un mito chi invece punta ad essere una persona decente un essere umano più o meno come dire appunto civile normale insomma una persona con i propri principi una propria morale non moralista ma con una propria morale viene etichettato come un un idiota come un deficiente un demente uno da da prendere in giro eccetera eccetera ma la critica che raggiunge la verità dello spettacolo lo scopre come la negazione visibile della vita come una negazione della vita che è divenuta visibile e quindi ovviamente se la vita coincide con lo spettacolo non essendoci più la dimensione reale vera della vita è chiaro che lo spettacolo è la negazione della vita reale per descrivere lo spettacolo tant'è che questa è una cosa stupida ma stasera faccio molti esempi mi rendo conto banali però secondo me sono importanti tant'è vi dico questa cosa che mia nonna che non c'è più purtroppo quando vedeva i film era convinta che non parlo di 50 anni fa parlo di 4 5 6 anni fa era convinta che quello che avveniva in televisione fosse reale cioè lei era convinta che se il cattivo sparava al poliziotto il poliziotto moriva realmente lei non concepiva l'idea che quello fosse un attore ecco ma a parte l'ilarità che suscitava in me e in tutti noi questa cosa che poi magari il giorno dopo gli facevamo vedere un altro film con lo stesso attore che era ancora vivo però lei era convinta che fosse comunque morto ecco nonostante l'irarità ma a noi succede esattamente la stessa cosa ad un livello da una parte di consapevolezza diverso dall'altro di incoscienza profondamente più pericoloso perché noi sappiamo che è finto però inconsciamente come dire lo approviamo come modello vero quindi è una cosa molto più pericolosa rispetto magari all'ingenuità di mia nonna per descrivere lo spettacolo la sua formazione le sue funzioni e le forze che tendono alla sua dissoluzione bisogna distinguere artificialmente degli elementi inseparabili analizzando lo spettacolo si parla di una certa misura il linguaggio stesso dello spettacolo in quanto si passa sul terreno metodologico di questa società che si esprime nello spettacolo ma lo spettacolo non è nient'altro che il senso della pratica totale di una formazione economico sociale il suo impiego del tempo è il momento storico che ci contiene ecco volevo andare un altro po avanti ma mi fermo qui perché appunto come mi rallaccio a quello che diceva sempre prima debor cioè che lo spettacolo la società è spettacolare nel suo totale nella sua parte e nei mezzi di critica perché qui vediamo che anche il linguaggio si adegua alla spettacolarizzazione del fatto e dell'evento e allora mi accingo a leggere un capitolo di questo libro bellissimo di marco caponera la sparizione del reale lettura critica del linguaggio dei mass media che ahimè non è più in commercio e leggiamo questo capitolo che si intitola semiosfera e costruttivismo mediatico e quindi la semiosfera è la diciamo l'area di influenza del rapporto tra le cose come sono dette e tra le cose che si dice e come sono dette come dicevamo prima riguardo alla semiosi e leggiamo prima questo questo epitafio che introduce questo capitolo questa citazione da Feuerbach che dice questo e senza dubbio il nostro tempo preferisce l'immagine alla cosa la copia all'originale la rappresentazione alla realtà l'apparenza all'essere ciò che per esso è sacro non è che l'illusione ma ciò che è profano è la verità stessa ecco l'inversione che è avvenuta nel corso degli anni che è avvenuta nel corso degli anni tra inutile e utile tra verità e falsità tra reale e apparenza è un rovesciamento completo di esattamente 180 gradi e questo è una cosa preoccupante se ci pensate perché con questi io cerco di darvi delle chiavi interpretative dei mezzi per scardinare ma siamo come se fossimo accerchiati no cioè noi è come se vivessimo in un enorme è come un truman show è come se vivessimo in un enorme ghetto di finzione cioè la città è appunto una specie di ghetto di panoptico di prigione a cielo aperto dove ognuno controlla l'altro e dove in sostanza tutto è finto in un libro straordinario che è scritto da un gesuita che si chiama michel deserto l'invenzione del quotidiano lui proprio analizzando le strutture del linguaggio analizzando tutta una serie di espedienti che l'uomo moderno deve avere per superare queste finzioni e quindi inventarsi il quotidiano questo sempre per effetto della doppia negazione cioè l'invenzione come finzione che smaschera la finzione come realtà porta essenzialmente a un essere più realistico di noi stessi e quindi in questo libro lui dice che per esempio il camminare a piedi è un atto come dire di creatività è un atto che in qualche modo sovversivo perché sovverte l'ordine precostituito di camminare sulla strada però anche se anche camminando a piedi la città è talmente tanto prescrivente come impedimento, come spazio, come mobilitazione che comunque anche camminando a piedi non si è liberi di percorrere tutti gli spazi perché ci sono le recinzioni, i cancelli, i palazzi eccetera eccetera quindi si è comunque costretti a seguire una regola una regola, una legge che come la legge fa anche esattamente questo parallelo deserto come questa legge è scritta sulla carta queste regole sono scritte proprio orograficamente sul territorio e tu quella regola devi seguire, non ne puoi seguire un'altra che è precostituita e leggiamo questo breve capitoletto ad una saturazione della semiosfera corrisponde un impoverimento della comunicazione quindi più il rapporto della cosa come è detta in relazione al cosa è detto è esasperato più la comunicazione è chiaramente impoverita la semiosfera, così come essa è stata descritta da Jean Baudrillard appare oggi più che mai satura a partire da riferimenti geografici per finire nei termini della concentrazione delle informazioni nell'unità di tempo i segni pervadono ogni zona dell'esperibile sostituendo la percezione diretta della realtà all'essere umano è preclusa la conoscenza obiettiva di oggetti e situazioni per via della fallibilità dei sensi tuttavia il rapporto diretto fisico dell'essere umano con la propria realtà si rinnova da millenni sempre uguale a se stesso fatti salvi i condizionamenti sociali e il bagaglio personale di esperienze ciò vuol dire che le nostre osservazioni, fruizioni avvengono sempre e comunque attraverso una codificazione culturale quindi già qui abbiamo comunque l'idea che anche il nostro senso la vista è comunque quando arriva al cervello l'immagine che noi abbiamo visto anche della natura, qualunque cosa viene comunque filtrata attraverso come se avessimo un software preinstallato viene letto attraverso degli elementi che sono del nostro retaggio culturale quindi faccio un esempio un italiano quando vede il mare ha un'idea del mare che è profondamente diversa da quella di un groenlandese a proposito del freddo di questi giorni l'informazione mediatica muta sostanzialmente la corrispondenza uomo-oggetto imponendo un terzo elemento esterno che si struttura a partire dal linguaggio ecco questo è un concetto molto importante perché già come afferma Caponera è difficile il rapporto uno a uno di comprensione tra l'oggetto osservato e l'osservatore che è l'uomo ancora più difficile è quando l'oggetto osservato è come dire filtrato attraverso un terzo oggetto che diventa come un terzo attore di questa immaginaria conversazione che c'è tra l'oggetto e l'osservatore la virtualizzazione del vissuto non è una figura soltanto letteraria essa è l'elemento distintivo dell'epoca contemporanea epoca che McLuhan definì anticipando i tempi era elettronica l'uso del linguaggio non più per fini comunicativi e relazionali è la realtà di questo secolo poiché mai come in questo periodo i mezzi per un abuso della parola sono aumentati e con essi il potere derivato ha potuto garantire forme di controllo sociale diverse dal passato dove il ricorso alla forza era l'unico mezzo possibile insieme alla censura e alla scuola anche se marginalmente adoperata per tenere a freno singoli e forze sociali che manifestavano esigenze di alterità di rifiuto dell'ordine generale imposto dall'alto ora, grazie al controllo radicale e globale dei mezzi di comunicazione in tutto il mondo in tutto il mondo valori, stili di vita, aspirazioni e abitudini vengono ad uniformarsi in nome di un ideale di globalizzazione di progresso che, per opinione della propaganda stessa porterebbe alla costruzione di un mondo migliore e alla formazione di individui uguali e soddisfatti il discorso che diceva Debord prima dell'obiettivo che è antecedente alla produzione della offerta che fa la domanda e non viceversa anche questo è un concetto che andrebbe spiegato meglio e approfondito soprattutto dipingere la realtà l'interpretazione che i mezzi di comunicazione di massa fanno del reale viene considerata dall'utenza mondiale come un'approssimazione del reale stesso in altre parole sarebbe la versione più vicina al fatto reale che ci è dato raggiungere grazie alle competenze giornalistiche e alle tecnologie a disposizione dei mass media in un determinato periodo storico al contrario di quanto si voglia far credere oggi non siamo più vicini alla notizia di quanto non lo fossimo all'apparire del mondo dell'informazione ancor prima che questa diventasse di massa indubbiamente le tecnologie consentono oggi di vedere e sentire oltre che leggere una notizia ma mai di riprodurre un evento reale in quanto tale ciò dipende dal meccanismo stesso di costruzione della notizia che ha implicazioni anzitutto soggettive e di potere l'informazione mediatica non descrive un fatto un evento ma lo crea lo costruisce e gli strumenti tecnici utilizzati non possono in alcun modo colmare la distanza che separa l'informazione dalla realtà l'operazione mediatica sull'informazione appare come un processo creativo che per molti aspetti possiamo avvicinare più alla creazione artistica come la conosciamo da sempre che non ad un sistema di descrizione oggettiva o parzialmente soggettiva della realtà quindi appunto l'informazione il fatto la notizia viene elaborato come fosse un'opera d'arte come fosse quindi una creazione ex novo non è vero che il fatto in sé viene colto nella sua essenza o la notizia in sé è colta nella sua essenza ma viene elaborata l'accostamento tra produzione mediatica e creazione artistica scaturisce dalla somiglianza dei meccanismi in atto nella trasformazione di un evento di un accadimento in oggetto dell'informazione lungi dal pervenire immediatamente e istantaneamente come molto spesso si dice i contenuti dell'informazione vengono a lungo manipolati è possibile proporre una chiave di lettura di questi processi suddivisi per fasi successive il primo passo che un mezzo di informazione qualsiasi attua è la decontestualizzazione di un evento dal fluire diacronico del tempo reale si preleva un episodio apparentemente omogeneo e significativo per consegnarlo a processi di decostruzione destrutturazione quindi cosa dice Caponera in sostanza dice se noi dobbiamo fare un servizio su una rapina e vediamo solo il ladro che esce di corsa dalla banca o dalla gioielleria quello è un frammento dell'avvenimento nel suo contesto il suo contesto che prevederebbe la storia del ladro come ha fatto ad entrare in banca come ha fatto ad uscire se lo prendono se non lo prendono se ha precedenti penali eccetera 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 questi processi hanno lo scopo di smembrarlo nelle sue componenti fondamentali che diverranno all'oggetto dell'informazione che si andrà a costruire successivamente andando a ricavare elementi di rilevanza di diverso grado ponendo alcuni fatti in primo piano e altri sullo sfondo con i quali dare vita ad un fatto e poi lì la notizia come dire viene elaborata sia attraverso il proseguo dell'immagine della registrazione e quindi per esempio intervistando i famosi vicini eccetera eccetera oppure con il commento e il commento vi invito a notare questa cosa qua effettuata rapina presso è di due rumeni però se la rapina per esempio l'hanno fatta due italiani non è che specifico la rapina è stata fatta da due italiani allora la sottolineatura due rumeni è una sottolineatura che ha evidentemente un messaggio e un indirizzo in cui andare a parare ovviamente se noi durante i telegiornali tra l'altro faccio un inciso mio personale quindi però sembra che oggi se vedi un telegiornale non è possibile non vedere almeno 15 morti 16 brutte storie e un gattino salvato cioè di fatti anche se appunto manipolabili ma di cose che succedono nel mondo sembrano non esservi traccia nei nostri telegiornali scusate il mio intervento continuo a leggere il fatto sarà costituito non più dall'evento inscindibile dal fluire stesso del tempo e dallo spazio in cui è instregabilmente inserito ma da quegli aspetti che di esso sono risultati interessanti utili ciò avviene sempre per passaggi soggettivi sia attraverso la selezione delle inquadrature delle macchine fotografica o telecamera sia attraverso la chiave di lettura del giornalista che dà l'informazione appunto quello che dicevo prima quando il fatto ha ormai una sua ragione d'essere unitare rispetto alle sue parti componenti cioè è formulato organicamente viene contestualizzato a posteriori nella maniera più confacente all'utilizzo che ne verrà fatto ricontestualizzare vuol dire aggiungere quelle note che inseriscono il fatto in un contesto che non potendo più essere quello reale perché strappato al momento della selezione delle scene e dei contenuti deve essere sostituito con elementi che ne rendano l'idea che ne forniscano un simulacro un simulacro della realtà appunto l'evento reale in questo modo è reso irraggiungibile poiché inconsistente e si trasfigura in un fatto confezionato in fabbrica questa signori è la mia idea della società dello spettacolo grazie a Marco Caponera grazie a Guy Debor e a quello che rispettivamente hanno scritto grazie a voi per l'ascolto vi invito a seguirci sulla nostra pagina facebook il mondo in parola regola d'arte sul sito Stap Radio con i nostri podcast saluto Lidia Andrea Simona Massimiliano un bacio al piccolo Tommaso e al piccolo Riccardo vi saluto calorosamente a sentirci a mercoledì prossimo e pregate per Massimiliano che torni in trasmissione buonasera da tutti